Dopo la giornata convulsa di ieri dovrebbe riunirsi questa sera alle 22 il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Verbicaro ad annunciarlo Ugo Vetere, legale del neopresidente del CDA dell'Istituto Bancario Arturo Riccetti. Una giornata che abbiamo documentato con le nostre telecamere quella di ieri, dove non sono mancati attimi di tensione, ma si preannuncia ancora più tesa la seduta convocata per questa sera. Ma torniamo a ieri, dei fatti si avrebbe riscontro solo in un verbale scritto a mano da alcuni consiglieri e del quale Vetere ne chiede il sequestro. Un primo incontro, quello del nuovo corso convocato dal presidente Arturo Riccetti, che con il CDA avrebbe dovuto valutare il possesso dei requisiti degli eletti, più note inviate al direttore della filiale Leonardo De Bonis, fa sapere Vetere, per valutarne l'onorabilità, la professionalità, l'indipendenza e relativi conflitti di interesse. Si chiedeva pertanto di accertare l'eventuale rapporto parentale tra i membri del CDA e del collegio con dipendenti della banca. E ancora, considerato che alcuni membri del CDA e del collegio svolgono attività professionale di dottori in economia e commercio, si è chiesto di accertare se i soci o clienti seguiti dai professionisti che anche nel triennio precedente abbiano rivestito la stessa carica, abbiano ottenuto delle agevolazioni. Stessa cosa per i parenti. Sollecitazioni, a quanto pare, mai evase dal direttore, come precisato dal legale. Evidente, fa sapere sempre, l'ostruzionismo riscontrato dalla presidenza nelle ore della seduta con più atteggiamenti. Evidente, può dirsi a questo punto anche, il profilarsi di due aree all'interno degli ambienti dell'istituto. Da un lato il direttore, i consiglieri russo Cirimele, Francesco Silvestri, Mario Saporiti e i componenti del collegio sindacale Germano Marino, Vittorio e Germano Nicolina. Dall'altro Riccetti, i consiglieri Giuseppe Silvestri, Pignataro, Giovanni Pagano. A rendere più esasperati gli animi, infine, l'abbandono dei lavori di alcuni consiglieri. Dunque la sospensione del CDA e l'aggiornamento a questa sera. A fronte dell'accaduto, Riccetti ha diffidato il direttore della filiale ad acquisire documentazioni redatte al di fuori della seduta del CDA. Questa sera conosceremo il resto. Grazie a tutti.